Fa gridare allo scandalo lo stato di abbandono del fiume Vetoio all'Aquila in via Molino di Pile. L'assessore all'ambiente del comune dell'Aquila Emanuele Imprudente ha già dato mandato all'ASM, l'azienda che si occupa di questi aspetti, di iniziare la bonifica dell'intera area. Ovviamente ci sarà da aspettare il tempo necessario per attivare tutta la procedura. Il fiume Vetoio è divenuto una discarica a cielo aperto. Una zona trafficata ed esposta con un grande parcheggio, in realtà da tempo i cittadini denunciano la presenza di immondizia in quell'area. La zona ormai è diventata oggetto di abbandoni selvaggi e indiscriminati. Siamo, come dicevamo, in via Molino di Pile, l'incuria regna sovrana, erba alta e televisori addirittura abbandonati all'interno del fiume. A pochi passi ci sono le anatre, quello è il loro habitat. In un fiume, il Vetoio, che è stato sempre ricco di flora e di fauna e che, tra l'altro con il lago di Vetoio, rappresenta un vero e proprio parco urbano all'interno della città urbanizzata. Un televisore in mezzo, un altro nella scarpata, a pochi passi una discarica a cielo aperto. I cittadini si indignano e chiedono maggiori contro questi abbandoni. Gli strumenti del resto, come ha già assicurato l'assessore Imprudente in più di un'occasione ci sono, verranno fatte delle multe. Si cercherà di disincentivare questi atteggiamenti che nulla hanno a che fare con la civiltà. La gente è invitata però a segnalare, perché soltanto così potrà attuarsi una collaborazione virtuosa tra l'assessorato all'ambiente del comune, la SM e tutte le forze di polizia, che poi si incaricheranno dei controlli e di eventuali multe. La presenza dei cantieri in città sicuramente non aiuta. Spesso sono le ditte a lasciare materiale edile proprio in prossimità delle oasi ecologiche e dei fiumi. Come in questo caso, ci sono infatti molti secchi di vernice e tutto fa pensare che siano le ditte stesse, a volte a scaricare lì.